Io sono Matteo Abbiamo questi due elettrodi che se sono in aria non fanno passare l'elettricità Invece quando sono in acqua fanno passare l'elettricità che manda un segnale qua al microbit A questo qua che vedete e manda un segnale a questo buzzer che fa un rumore di una sirena quando passa l'acqua